Ciao Fragoline, nuovo video. Come dicevo al titolo, volevo dirvi un po' di novità sul canale. Allora, ovviamente sono tre novità. Una forse è sempre ripetuta, come faccio sempre in tutti i video, e invece gli altri sono nuovi perché volevo parlare di queste tre cose che sono più importanti. Allora, però prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video. Seguirmi su Instagram, che lì metto tutto quello che faccio ogni giorno qui su YouTube, giustamente. E lasciarmi un like se vi piace questa tipologia e un commentino qua sotto se volete chiedermi qualcosa. Iniziamo dalla prima notizia. Allora, la prima notizia praticamente me l'ha fatta un ragazzo sotto in un video e mi aveva chiesto, dato che certe persone non hanno Instagram, come facciamo a accontentarti per far sì che possiamo parlare, anche non so, tutto quello che ovviamente una persona può dire in privato, ad esempio. Allora mi ha chiesto se facevo questa posta dove le persone possono comunicare in privato se non hanno il coraggio di scrivere sotto nei commenti in un video oppure, dato che nessuno, quasi tutti non hanno Instagram, invece di fare Instagram che molte persone non gli piace, allora mi ha chiesto se è possibile fare, non so, qualche posta per comunicare tramite me qualcosa, qualsiasi cosa. Dato che mi è venuta questa idea, grazie... Dato che mi è venuta questa idea, grazie al ragazzo che mi segue ogni tanto, adesso praticamente ho fatto questa email, che adesso ve la dico, ve la lascio sia qui e sotto in tutti i video, email che praticamente è, se volete salvatela, non lo so, la posta di fragolina, chiocciola.mei.com Quest'email che ho fatto, in poche parole, se volete chiedere oppure anche parlare in privato o non lo so, qualsiasi cosa che volete parlare, in poche parole, queste mail, secondo me è un'ottima cosa per far sì che voi potete comunicare con me, anche raccontare, che ne so, una storia che vi è successa, volete qualche consiglio che io posso darvi, che ne so, ad esempio, in amicizia, posso darvi un consiglio, un'amicizia di quello che vi è successo, oppure posso darvi un consiglio, come, vabbè, io dico fidanzarsi, ma non proprio, è un esempio che vi sto facendo. Non so se può essere di aiuto alle persone che non hanno il coraggio di scrivermi sotto nei commenti e di dire, guarda, io ho questo problema, riesci ad aiutarmi, a risolverlo? Non lo so, qualsiasi cosa, ovviamente, anche qualche consiglio, qualsiasi cosa. E queste mail io l'ho fatta per questo, praticamente una posta, che voi mi scrivete in queste, che io li leggerò ovviamente tutti, dentro, dovete scrivermi se volete, mi è venuta anche, diciamo, questa idea, se volete che resta privato, che io risponderò privato tramite email, oppure anche tramite un video. Secondo me è anche una bella cosa, perché potrei anche fare un video dove uno di voi mi manda un, io dico una storia, diciamo, quello che vi è successo e io poi dopo vi do il mio consiglio di, non so, di come fare, con questa amicizia che è finita, non so, qualsiasi cosa che voi avete bisogno, in poche parole. Secondo me è una bella idea, perché grazie anche a lui, mi ha, diciamo, mi ha fatto venire questa idea qua. Non lo so, fatemi sapere cosa ne pensate di questa idea, se può essere di aiuto, può essere utile, sul fatto che, ovviamente, chi vuole mi manda un email e mi dice, guarda, preferisco che me lo dici qua tramite email, in privato, senza mandarlo, senza, ovviamente, fare il video. Oppure, un'altra persona mi dice, se vuoi puoi anche, diciamo, dirmelo tramite un video, così almeno, non so, è più bello, possono anche saperlo gli altri, non lo so, qualsiasi cosa. Cioè, può, ovviamente, aiutare anche gli altri, se è successo, ad esempio, la cosa dell'amicizia. Secondo me, può aiutare, per cui, io vi lascio la mia email, che ho inventato, ne ho inventato un'altra, proprio dedicata alla posta, per i consigli, posta dei consigli, posta in generale. Per cui, ve la lascio in tutti i video in cui vedete, che io pubblico, e in più, me la lascio anche qua. Così, voi salvate queste email, e chi vuole parlare in privato, eccetera, basta che mi scrive tramite queste email, così, possiamo comunicare. Dato che, molte persone mi hanno detto che non hanno Instagram, e non vogliono farlo per il motivo che è noioso, eccetera, che, sinceramente, do ragione. Io, vabbè, ormai avevo fatto Instagram per un bel po', per cui, sono fissata anche io con Instagram, però, per chi non ce l'ha, vi consiglio di scrivermi a queste email, per qualsiasi cosa, ma proprio qualsiasi cosa, consigli, aiuti, qualsiasi cosa. Poi, questa era la prima notizia. La seconda notizia, la seconda notizia sono le sponsorizzazioni. Voglio tornare a fare il video della sponsorizzazione, cioè io sponsorizzo tutti i canali che mi seguono, e che guardano i miei video, e che commentano sempre sotto, nei video in cui io pubblico. Perché ho visto che, ho avuto tante visualizzazioni, e tanti commenti sotto nel video che, avevo fatto in precedenza, che praticamente, è andato bene quel video lì, l'ho fatto una volta, per sponsorizzare, se non sbaglio, cinque persone, e grazie a quel video, praticamente, molte persone mi hanno contattato, mi hanno scritto sotto nel video, le visualizzazioni erano un bel po', e allora, ho detto, credo che gli è piaciuto, quasi quasi lo faccio ancora. Per cui vorrei fare la sponsorizzazione dei canali vostri, che mi seguite. Però, dato che è molta gente furba, io sponsorizzo solo le persone, che mi seguono in tutti i video, perché i miei video, che io pubblico tre volte a settimana, sono il continuo, per cui, se voi vi perdete un video, ad esempio un vlog, cioè, ogni vlog che io faccio, è il continuo, di quello che io avevo detto, per cui, dopo non è che voglio star lì, a ripetere sempre le stesse cose, se voi vi perdete anche un video, voi, nell'altro video, poi non sapete cosa io ho detto, cosa io ho fatto, per cui, se voi, interessa il mio canale, se voi interessa, quello che faccio, secondo me, è meglio seguirmi, in tutti i video, adesso ovviamente, cerco in tutti i modi, di farli più brevi, e non che durano più di, diciamo, 20 minuti, così almeno potete seguirmi, per cui, la sponsorizzazione, che faccio io, sul mio canale, è sponsorizzare il vostro canale, ma voi, dato che io, devo vedere che video fate, eccetera, per sponsorizzare, e vedere anche, se, quella persona è simpatica, eccetera, per cui, se voi, vi iscrivete nel mio canale, dovete, guardare i video, e, quasi sempre, scrivere sotto, in tutti i video, perché, io, vedo le persone, che mi seguono, e quelli che, si iscrivono, ma poi, non si fanno neanche vedere, per cui, io direi che, la sponsorizzazione, è, vedere i video, quasi tutti, quello che faccio, ovviamente, scrivere sotto, nei commenti, nei video, praticamente, il commento, adatto, a quel video, sinceramente, e io, poi, vi sponsorizzerò, sul, sul, su, il mio video, per il vostro canale, credo, che sono stata chiara, perché vorrei, diciamo, stringere, non so neanche, quanti minuti, sono passati, dato che ci sono, altre due, notizie, e, se non è chiaro, giustamente, ve li lascio qua, quello che, dovete fare, così almeno, sapete che, quando devo sponsorizzare, voi, io, sponsorizzo, i piccoli canali, cioè, vuol dire, che non devono, superare, i mille iscritti, perché preferirei, aiutare quelli, che ancora, non sono arrivati, ai mille iscritti, che quelli, che sono già, ai duemila iscritti, a tremila iscritti, perché io, ancora, non sono arrivata, a duemila iscritti, per cui, vorrei, aiutare, quelli, che non hanno ancora, i, i mille iscritti, ma, qua c'è sempre casino, scusate, per, che passano, e, niente, per cui, sponsorizzo, solo, quelli, che hanno, meno di mille iscritti, questa è la seconda cosa, la terza cosa, ho pensato, che ogni video, che faccio, tranne, i vlog, vorrei salutare, tutti quelli, che mi seguono, e che, ogni, volta, vedo sotto, nei video, i commenti, ad esempio, la persona, che è sempre presente, nei miei video, che li guarda, tutti, ma, proprio tutti, e che, mi segue, sempre, e scrive sotto, nei video, sempre, proprio, scrive sempre sotto, nei video, e in più, guarda sempre, i miei video, è, ricette, risate, in pochi minuti, per farvi capire, per cui, lei, che mi segue sempre, che scrive sempre sotto, nei miei video, è sempre presente, e io lo vedo, perché, nei commenti, si vede che lei, è sempre nei miei video, per cui, ogni volta, ringrazio, ogni video, una persona, o anche la stessa, perché, se, quella persona, è sempre, lì sotto, nei miei video, ovviamente, saluto sempre quella persona, lì, anche per, pubblicizzare, il suo canale, prima, che io, continuo, a fare il video, in poche parole, credo che, mi sono capita, comunque, vorrei, salutare, le persone, che ogni volta, scrivono sotto, nei commenti, che sono sempre presenti, quelli che, ovviamente, sono meno presenti, che fanno i furbi, ad esempio, una volta, due volte, al mese, mi scrivono sotto, bel video, mi piace quello, che hai mostrato, eccetera, no, io voglio, che le persone, sono presenti, per far capire, a me, che davvero, ci tengono a vedermi, che, mi vedono, perché sono simpatica, perché, gli piacciono i miei video, tutto qua, solo per quello, perché, sennò, tanto vale, cioè, io seguo una persona, perché davvero, piace, i suoi video, e li commento sempre, tutto qua, ovviamente, sono sempre, le stesse cose ripetute, ma, questa è una cosa, un po' diversa, perché vorrei salutare, le persone, che sono sempre presenti, con i commenti sotto, nei miei video, questo, è la terza notizia, che farò, non nel vlog, perché poi, nel vlog, secondo me, mi dimentico, invece di dire, ciao, saluto, l'ultima cosa, sperando che questo video, non è durato l'eternità, questo sarà, di sicuro, la, definitiva, praticamente, non vorrei più, cambiare, in poche parole, i video, dato che, ci sono certi, nuovi iscritti, allora, i video che io faccio, a settimana, sono il martedì, il giovedì, e il sabato, il sabato, metto i vlog, perché, secondo me, sono più comoda, dato che, registro, che ne so, un giorno, in settimana, e poi metto al sabato, invece, il martedì, il giovedì, pubblico solo, le cose, che vi mostro, ad esempio, lo shopping, i prodotti finiti, oppure, vi mostro anche un prodotto, eccetera, queste cose, questi, sono i giorni, in cui ho diviso, in cui io pubblico, invece, l'orario, credo che lascerò quello, che è dalle 2, o alle 8, se non riesco a pubblicare, un video, alle 2 del pomeriggio, lo pubblicherò, alle 8 di sera, ho notato, che alle 2 del pomeriggio, molte persone, non ci sono quasi mai, ci sono, sì o no, quelle 10 persone, che mi seguono sempre, invece, alla sera, secondo me, c'è più, persone, che guardano i video, però, dato che è la sera, secondo me è troppo tardi, allora ho deciso di pubblicare alle 2, ma se per caso, non riesco a pubblicare alle 2, vi dico che, pubblicherò alle 8, questo è l'orario definitivo, che non voglio più cambiare, perché, dato che, avevo fatto il sondaggio, che vi lascerò qua, molte persone, avevano detto, di pubblicare, due video a settimana, quelli corti, e, erano sbilanciati, o alle 2 del pomeriggio, o alle 8, dato che io non sapevo come fare, allora alla fine, ho deciso di farli tutte e due, e in più, ho visto che molte persone, non è che stanno a dire, vabbè, quando posso, lo guardo, quello ovviamente, allora ho detto, perché devo far decidere, alle persone, se poi, non tutti sono presenti, allora alla fine, ho detto, decido io, e vi comunico, così, che faccio, se faccio i vlog, lo faccio anche il sabato, se no, li faccio, faccio solo due, due giorni a settimana, in questo mese, cioè alla fine di gennaio, vedete, il sabato, compreso, invece, il mese successivo, che è febbraio, non credo, che pubblicherò il sabato, perché, ho pochi video, in più, dovrei registrare, tanti altri video, ma dato che non ce la faccio, devo farlo un po', piano piano, alla fine, pubblicherò solo, due volte a settimana, per il momento, poi, quando la situazione migliora, giustamente, ritornerò, come più, spero che, ho detto tutto, se, ovviamente, non mi sono spiegata, sotto nel commento, vi lascio tutto scritto, e in più, ve lo lascio anche sotto, nell'infobox, così, a me non sapete tutto, e, mi sono, fatta spiegare bene, detto questo, spero che queste, novità, vi piacciono, fatemi sapere, cosa ne pensate, non so quanto è durato questo video, però, ci saranno un bel po' di tagli, detto questo, spero che, mi sono spiegata bene, spero che avete capito, noi ci vediamo al prossimo video, e, vi saluto, mi raccomando, ovviamente, iscrivetevi al canale, e commentate qua sotto, io, vi aspetto, anche, tramite email, che io, vi ho dato, spero che, questa cosa qua, questa posta, funziona, perché, sennò, l'ho fatta, tanto per, anche perché, ho fatto, proprio la nuova email, per fare queste cose qua, e quindi, detto questo, ci vediamo, al prossimo video, ciao!